io combatto per la luce è l'ora del giudizio per mio padre allora facciamo il laboratorio per aumentare la citata ai miei archibugi potenziamento completato c'è pericolo assaggia la mia ira è l'ora del giudizio c'è pericolo ok si è un po' noiosa questa come missione è dovata c'è pericolo per mio padre il re è l'ora del giudizio per mio padre il re sporca io combatto per la luce per mio padre il re ok 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 i uomini sono sotto attacco operazione completata cosa va bene vado subito merda non può farlo qualcun altro i attacchi i nostri uomini sono sotto attacco cosa c'è ecco fatto sono spacciato a vero ricostruirò io combatto per la luce la nostra città è sotto attacco attendo gli ordini cosa cosa c'è ok ok si mio signore altro lavoro cosa c'è d'accordo c'è pericolo certamente assaggia la mia il trucco comunque è tenere la base è l'ora del giudizio come dire inespugnabile per l'onore per l'onore vostro onore c'è pericolo altro lavoro va bene cosa si mio signore si mio signore attendo gli ordini altro lavoro c'è pericolo assaggia la mia ira per mio padre il re sporca canaglia non c'è bisogno i nostri uomini sono sotto attacco sere c'è pericolo comandate pure operazione completata operazione completata io combatto per la luce non c'è bisogno che ti inginocchi per mio padre il re si mio signore c'è pericolo io combatto per la luce c'è pericolo vogliamo cercare di distruggere malganish cosi o meno la luce è la mia forza ok non c'è bisogno che ti inginocchi la luce è la mia forza molto bene c'è pericolo si mio signore va bene parla si mio signore non c'è bisogno che ti inginocchi io combatto per la luce operazione completata per l'onore certamente non c'è bisogno che ti inginocchi la nostra città è sotto attacco la luce è la mia forza vostro onore c'è pericolo ottimo piano per l'onore per mio padre il re io combatto per la luce c'è pericolo molto bene io combatto per la luce cosa? c'è pericolo ottimo piano c'è pericolo non c'è bisogno che ti inginocchi i nostri uomini sono sotto attacco io combatto per la luce c'è pericolo c'è pericolo certamente me ne occupo io si va i nostri uomini sono sotto attacco sono nel tuo cecchino la luce è la mia forza io combatto per la luce ottimo piano c'è pericolo ok i che cast e i negromanti sono morti c'è pericolo c'è pericolo c'è pericolo c'è pericolo i nostri uomini sono sotto attacco ok adesso che non ho molto guardato ma dovrebbero essere in grado di decidere da soli questa base del benedetto adesso non è facile tenere robato tutto io combatto per la luce c'è pericolo c'è pericolo c'è pericolo c'è pericolo c'è pericolo operazione completata cosa c'è non c'è bisogno che ti inginocchi certamente sporca canaia io combatto cosa ti serve per mio padre il re sei incorreggibile per mio padre il re assaggia la mia ira è l'ora del giudizio operazione completata altro lavoro carico è pronto a sparare si mio signore potenziamento completato potenziamento completato assaggia la mia ira per mio padre il re è l'ora del giudizio non c'è bisogno che ti inginocchi ok io combatto per la luce per mio padre il re sei incorreggibile assaggia la mia ira finché riesco cerco di riportarmi in vantaggio c'è un bel vantaggio di gente morta i nostri uomini sono sotto attacco c'è pericolo si signore c'è bisogno che ti inginocchi sporca canaia operazione completata per mio padre il re per mio padre il re c'è pericolo c'è che lui ci mette di più di me ad accoparle diciamo gli umani sei incorreggibile sei popolani per mio padre il re i nostri uomini sono sotto attacco si mio signore c'è pericolo la luce è la mia forza sei incorreggibile assaggia la mia ira sporca canaia torniamo qua in base che adesso mi vanno ad attaccare la luce è la mia forza non c'è bisogno che ti inginocchi ok ma che sembra di essere con l'arico a questo riesco non me ne frega niente cosa? carico è pronto a sparare si mio signore io combatto per luci hai un bersaglio? la nostra città è sotto attacco altro lavoro si mio signore c'è pericolo si signore altro lavoro i nostri uomini sono sotto attacco cosa? d'accordo la luce è la mia forza non posso costruire qui non c'è bisogno che ti inginocchi altro lavoro non posso costruire qui va bene io combatto per la luce la ricerca è la mia forza la ricerca è la mia forza c'è pericolo c'è pericolo ok adesso vediamo che di distruggerlo c'è pericolo si mio signore vado subito operazione completata non c'è bisogno che ti inginocchi certamente la luce è la mia forza c'è pericolo c'è pericolo c'è pericolo andiamo di pompare anche un attacco operazione completata per l'onore c'è pericolo la luce è la mia forza che sta recuperando lo devo battere adesso e finire io c'è pericolo c'è pericolo io combatto per la luce per l'onore c'è pericolo la luce è la mia forza c'è pericolo ottimo piano potenziamento completato io combatto per la luce non c'è bisogno che ti inginocchi potenziamento completato la luce è la mia forza molto bene c'è pericolo ottimo piano la luce è la mia forza io combatto per la luce ok molto bene c'è pericolo cosa ti sa? la luce è la mia forza certamente per mio padre il re hai un bersaglio? io combatto per la luce ahahah dai che devo solo fare il culo senza il re non valgono niente poi gli fai l'attacco con i cavalieri e con i cibucci di dietro gli fai il culo noi approfittiamone subito e andiamo a prendere un po' di magia ancora il re vivo di nuovo c'è pericolo sei incorreggibile per mio padre il re c'è pericolo i nostri uomini sono sotto attacco io combatto per la luce non c'è bisogno che ti giro c'è pericolo non c'è bisogno che ti giro per l'ortero è l'ora del giudizio c'è pericolo non riuscire a battere non c'è bisogno che ti giro la luce è la mia cosa c'è pericolo comandate pure eri il re non c'è bisogno che ti giro c'è pericolo io combatto per la luce c'è pericolo vostra città e i nostri uomini sono sotto attacco comandate pure indicaci un bersaglio la luce è la mia forza e vai finiamola qui malganis solo io e te venire col culo che ci verrai te lo metto da dietro ti darò la caccia fino alla fine del mondo se necessario mi hai sentito fino alla fine del mondo e niente finito anche il capitolo 6 con anche l'invito del trovone ad andare da lui quindi nel prossimo ci aspetterà di nuovo un altro capitolo di umani al difficile dove andremo praticamente lì a l'antardide dal grande malganis per cui grazie dell'attenzione e alla prossima ciao a tutti